Quando io sal... salmi... sal... sal... quando... Quando salpò lei da... Quando sai... quando io ho fatto questo... No, salpò? Quando salpò? Io sa... lei dica, io sa... Io sa... Sal... Io salpi... No, salpilo io... Salmi... Non è sal... Sotto, salmi... Stringi... Non lo dico più... Salpai... 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 Perché non l'ha detto? Perché non... Dov'è se dire in spagnolo? No, in spagnolo, grazie... Se l'inventa... Allora... Lei salpò... Io salpò da... No, salpai... Salpai... Quando io salpai erano... Potevano essere dalle sette... Alle sette e un quarto... Sì, spesso non ci interessa... Il particolar non interessa... No... Lei andò... Verso le Indie... È tutto... Ah, verso le Indie... Perché? È l'India, no? E... E questo è l'epico viaggio... No, credo che sia solo questo... Che facevate durante le lunghe ore di navigazione? So che ci furono ammutinamenti... Mai... Mai... Mai ammutinamenti... Eh... Luego de Puente... Come? Gioco de Puente... Gioco de Puente... Ah, giochi di Puente... Gioco de Puente... Facevate giochi di Puente... Giochi di Puente... È il Pigafetta... È il Pigafetta che era il secondo... Comisario, no? È il secondo... È il secondo comandante... Di Pordo, Pigafetta... Per... È faceva due... Gioco fondamentali... Due giochi fondamentali... È il primo... Il primero... Una stronzata spagnola... Mi dò che è terribile... Che tutte le maniana... Alle 5, 5 e un quarto... Urlava... Tierra! E... E... E tutto il baticuor... E invece era un scherzo... Non era un scherzo... Non era un scherzo... Niente... 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 Simpatico... Era un pigafetta... E poi... E come andò a finire... Andò a finire... Che lui faceva... Tutti questi giochi di Ponte... Che erano... Uno molto importante... Che si chiamava... Non era un scherzo... Non era un scherzo... Tierra... E poi andavate... C'era cantata di Spagna... E tutti... Correre come... Niente... È delusione... È delusione... È delusione... Allora mi inizio a pensare... Porca puttana... E sta... E sta... Non è la condura... E sta qui la plata... Meno male il sospetto... Meno male il sospetto... Meno male il sospetto... Meno male... Perché ogni tanto si sentono anche delle parole non televisive... No va bene... Quando... Sì... Ecco... Allora lui faceva la gara... La gara... La gara la più... La più importante... La gara di... De... De mission... Mission... Di spagnolo si può dire... La gara di pisada... Tutti si mettevano con... Con l'attrezzatura... Sì... Faceva chi aveva la maggiore portata... Sì... Prendeva il... Un piccolo premio... Sì... In frutta... Lei era contento di quei... Partecipava alle gara... Mai... 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 Perché aveva... E mi aveva un mal tremendo... Molares... Molares... Perché... Perché... Il piegafetta... Ha fatto una... Un error... Un grandissimo error... Ha... Invece che un dentista... Ha preso un dentista di Firenze... Io lo chiamavo... Dicevo... Mi guarda... Volsi ciò che si può... E il più non di mambare... Amorone... Uno studioso di Dante... Uno studioso di Dante... Invece di un dentista... Inutile praticamente... Completamente inutile... Completamente la cosa più inutile... Ha fatto sto picaghetto... E c'è il dentista... Vuol... Tutto Dante a memoria... Ha il dente... Un mal... Altra gara... E faceva derutto... Spagnolo sempre... Sempre questo... E venceva sempre questo conte... Alvaro arrogante... Ibarra de Castiglia... Siviglia... Ibariana... Caravaglio... Come la Spagna ha molti nomi... Quello detto... La belva umana... Passato la storia come la belva umana... Alias fracchia... È un film questo... Questo è un film... È un film... Questo è un film... Un altro... Ah no... E poi l'altro... Faceva anche delle gare... No no no... Va bene... Va bene... Va bene... Continuavano queste gare... Che lo usava... No... Che nelle... De Nebbia... Questo Ibarra... Si metteva come... E quando sbarcò... Quando sbarcò... Come tromba... Quando sbarcò... E io non sbarcai... Io sbarcò... No... Io sbarcò... Svutti... No... Dunque... Il pigafetto è urlato... Dierrè... E io... Sono scesi tutti... Erano veramente... Verdad... Ah sono scesi tutti... E poi la Germania d'America... E lei non... Ma quindi lei non è stato il primo... A mettere... Ultimo... Il piede... Ultimo è stato... È stato lei che... Alle 4 del pomeriggio... Io ho già fatto tutte le cose... E... Lei che fece? Mese... Io mi... Mi... Me... 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 No... No... Mai ne muta... No... No... Ci racconti quando... Io musi... Quando il piede... Il piede era... Dunque... Io ho il 42... Ma lei che fece? Io... Ti spieghi i dettagli... Come... Come fece col piede... No... Col piede... Come fece? Lo... 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 Lo mai... No... Lo metti... Lo marchi... No... Lo peggi... No... Per taglio... No... Metai... Lo dico in spagnolo... No... Lo dico in italiano... Per via... No... Por fa por... Metai... Lo dico... No... Lo... Lo miss... No... Lo ma... Mi chiamano per un'altra vocazione... No... Mi chiamano... Va bene... Lo misi... Lo misi... Lo misi... No lo misi... Lo misi il piede... Chi? Quando misi il piede... Misi... Me chiamano per un'altra vocazione... Misi il piede... Arrivederla... 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 Studi meglio l'italiano... Misi... Misi... Come giù? Misi... 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 Misi...